Sottoscritto il protocollo d'intesa fra Polizia di Stato e Anciabruzzo per la prevenzione del contrasto dei crimini informatici, un progetto fortemente evoluto e che costituisce diretta attuazione di quanto previsto dalla convenzione stipulata nel luglio 2023 fra le parti. Soprattutto per quello che riguarda la macchina comunale, la macchina provinciale, ma le istituzioni che formano diciamo l'ossatura della regione Abruzzo, un protocollo del genere, un protocollo che mette in sicurezza o comunque cercherà di mettere in sicurezza tutte quelle che sono le istituzioni, in questo caso le istituzioni comunali e della nostra provincia. Gli attacchi informatici sono peraltro ripetuti in gran parte del territorio nazionale e hanno interessato anche comuni importantissimi. Ricordo qualche anno fa quello di Palermo per esempio. Quindi avere uno scudo e avere soprattutto dei segnali, dei precursori che ci segnalano eventuali pericoli questo può essere molto importante. Quello dei reati informatici è un tema di grande attualità, ha spiegato Gian Guido D'Alberto, presidente di Anciabruzzo, soprattutto per gli enti locali chiamati a garantire la tutela dei dati personali trattati ogni giorno dagli uffici. I dati del 2024, già solo per il mese di gennaio, fanno registrare addirittura oltre mille tentativi di attacco sui sistemi informatici di pubbliche amministrazioni, enti locali e soprattutto di enti strategici. Ecco perché è necessario che si crei un sistema di collaborazione che passa dall'informazione condivisa, comunicazioni e formazione del personale che consenta di tutelare tutti i comuni, anche e soprattutto i più piccoli, ecco perché Anciabruzzo ha da subito aderito a questo protocollo e dobbiamo collaborare affinché possa essere sfruttato nel modo migliore possibile. Tutelarci dagli attacchi informatici significa tutelare i diritti dei cittadini.